Si rinnova l'appuntamento con l'utilizzo consapevole e sicuro del web, questo incontro provinciale con gli studenti della provincia di Agrigento? Sì, noi come CIPIA abbiamo avuto l'onore di ospitarlo anche quest'anno, è da due anni che lo ospitiamo ed è importante perché così conoscono i tanti ragazzi o tante istituzioni scolastiche della provincia, conoscono qual è il lavoro che fa il CIPIA, cos'è il CIPIA, perché noi siamo un'istituzione nata nel 2015. Su un tema estremamente importante, vedere qui circa 40 istituzioni scolastiche, 36 che partecipano a questa iniziativa, ma tanti altri colleghi hanno delle iniziative singole, che non sono coinvolte a livello provinciale, è estremamente importante perché vuol dire che il tema è sentito e poi parlarne è veramente la soluzione del problema, perché io penso che questo problema possa trovare la soluzione se in quanto se ne parla, se in quanto il minore e l'adulto entrano in un rapporto di fiducia anche, perché per poterne parlare è giusto che il minore trovi nell'adulto la fiducia. Bene, se questo connubio, se questo rapporto si instaura io penso che ci sia la sconfitta del bullismo, e non solo la persona coinvolta che è la vittima, ma anche il bullo in sé per sé possiamo recuperare, perché anche quella è una persona che ha qualche devianza, che ha qualche problema e che potrebbe essere recuperato, anzi deve essere recuperato perché altrimenti continuerà ad esercitare questa sua prepotenza, questo suo modo più o meno nascosto o più o meno visibile con altri ragazzi. Stamattina proprio si sta svolgendo questo convegno, ogni anno noi facciamo un convegno provinciale, al di là di tutte le iniziative che vengono realizzate nel corso dell'anno, quindi come incontri nei vari territori delle istituzioni scolastiche, oppure anche la divulgazione di questionari per vedere un po' come viene percepito questo fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Stamattina abbiamo qui la presenza di diverse istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado della provincia, e questo è importante perché proprio abbiamo scelto la data del 18 marzo, perché il terzo lunedì del mese di marzo è stato individuato qualche anno fa dall'assessorato e alla pubblica istruzione a livello regionale e dall'ufficio scolastico regionale come giornata proprio per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Credo che la presenza qua stamattina di 500 alunni, la partecipazione di diverse scuole, tutti i prodotti multimediali che sono stati realizzati assieme ai cartelloni, tutto il resto come anche la presentazione di descrizioni sintetiche di come percepiscono loro questo fenomeno e di quello che fanno per contrastarlo. E la dimostrazione è che, insomma, si è lavorato tanto, che la provincia di Agrigento sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo è abbastanza approfonditamente informata, che fa un'ottima attività di prevenzione, e quindi io ringrazio in modo particolare il dottore Zabbo per la fiducia che ha dato a noi del gruppo di portare avanti tutte le iniziative per, diciamo, sostenerci in tutto quello che noi programmiamo e organizziamo a livello provinciale ma anche a livello nazionale con incontri fuori e in modo particolare stamattina anche al dirigente scolastico Sandino Volo Paese che fa parte del gruppo provinciale sul bullismo per la disponibilità a dare anche per quest'anno a disposizione questo splendido spazio, questa splendida struttura che ha accolto veramente in maniera sorridente tutti gli alunni provenienti dalle varie parti della provincia di Agrigento. State già pensando al prossimo anno? Beh, ancora deve concludersi questo e quindi abbiamo anche altre attività che fino al mese di giugno, però per il prossimo anno, certo, ultimato questo ci siederemo e faremo delle verifiche, delle valutazioni di quello che è stato fatto, se ci sono delle altre cose da aggiungere o da togliere, è chiaro che non ci fermeremo.